con il più giovane giocatore della Samb classe 95 oggi però titolare una grande partita quali emozioni hai provato tante emozioni e poi a vedere questa cornice di pubblico è stata una grande emozione parliamo un po' della tua carriera prima di arrivare nella prima scuola tutte le trafile nel settore giovanile fino a questo esordio il tuo ruolo quello di terzino destro è un ruolo naturale o magari sei stato adattato no cioè sono stato adattato prima facevo il centrale poi con la juniors sono passato a destra poi a sinistra però il mio ruolo vero è quello centrale però sono stato adattato a destra mi piace farlo niente se niente male che differenza hai trovato tra giocare una partita con la juniors con il settore giovanile davanti a 4.000 spettatori tantissima tantissima perché prima cosa non ci sono tutti questi spettatori e all'inizio devi stare calmo concentrato perché se no dopo puoi pure rischiare di fare male però sono contento e niente la tua marcatura su un negro insomma all'inizio di telecronica dicevamo un osso duro perché comunque un giocatore di categoria alla fine te la sei cavata te la sei cavata ripeto che il negro secondo me è sprecato per queste categorie potrebbe fare professionismo semplicemente però oggi forse lui è capitato una giornata no io non una giornata sì niente una persona a cui vuoi dedicare questo tuo esordio in in prima squadra tante persone alla famiglia agli amici che mi sono sempre vicini bassi in bocca al lupo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti